Amici del grande calcio, bentornati su senza giri di parole, io sono Biazzaku e io sono Totsuna Ce l'aspettavamo, il momento della BoboTV, io già faccio reaction perché mi stanno regalando degli spunti eccezionali E non so cosa abbiano detto, quindi attenzione potrei avere delle reazioni scomposte sulle stronzate Parto Napoli, Anto, introduci tu, tutto quello che vuoi, tanto anche lì ci sono tante situazioni da analizzare Tanti, Karaschela, Ozyman, Loboca, la difesa, le situazioni da campo, estracampo E se devi iniziare a Gassano è bello Innanzitutto dalla partita super di H ha fatto il Genoa Il Genoa ha fatto una partita meravigliosa, stupenda A livello tattico, a livello di gioco Attenzione che non ha cominciato male il nostro amico Barese Di ritmo Infatti si sta venendo un attimo di rigurgito questo Perché poi giocare a Marassi è complicato Quando il Genoa gioca in casa è complicato Il Genoa ha fatto una partita stupenda e meravigliosa Poi con due giocate individuali il Napoli ha pareggiato la partita Però il Genoa è stato fantastico Ah ecco, due giocate individuali Cioè hanno fatto due azioni clamorose, due giocate individuali, bellissimo Bellissimo Che poi i gol del Genoa sono una delle costruzioni La costruzione del gioco è incredibile, il Genoa ha fatto certi gol Tutti quanti qua a Genoa i miei amici dicevano Eh, le prime quattro partite facciamo zero punti eccetera Quattro partite ha fatto quattro punti e soprattutto Mamma mia, quattro partite e quattro punti Un Napoli ha fatto sette L'ultimo ha perso la partita con il Torino Poteva avere anche qualche punto in più anche l'altro giorno Però il Genoa ha fatto bene Andiamo a Napoli A me viene da ridere perché non è che sono un mago Non è pregacca, non indovino niente Però siccome sono stato nel calcio E vedo E ho delle mie idee, mie opinioni Il Napoli non ha né testa né cola Non gioca bene Né cavo né cola Non ha idee Ma soprattutto c'è grandissima confusione Nei giocatori Ma soprattutto In quello che l'allenatore gli sta facendo fare Perché in questo momento qua ragazzi Parliamoci chiaro Il Napoli Lasciamo stare che ha il problema lì dietro Che è andato via Kim che ha fatto una stagione fantastica Però adesso sta avendo problemi Al Bayern Monaco Perché non dimentichiamo Tutto dipende sempre dalla mano Ma non mi pare che stia avendo problemi al Bayern Kim È proprio l'unico difensore che gioca sempre Non ce la faccio Pure in questo Stavo usando pure Kim Che ora sta avendo problemi al Bayern Inventato Di sana pianta Perché? Perché hanno pareggiato con Bayern Leverkusen Allora Kim Veramente Kim sta facendo delle prestazioni assurde Col Bayern Ma sì Però pure in questo caso Vuole utilizzare Sto fatto del Bayern Monaco Per far intendere che Pure per Kim C'era la mano di Spalletti Non è che Kim era forte Era Spalletti Che lo faceva diventare forte Quello è il discorso che vuole farti Mamma mia L'allenatore di Spalletti Che è andato via Il genio È arrivato La brava persona di Garcia La realtà è che il Napoli Lì dietro fa fatica Ogni volta che l'attaccano Non hanno coperture preventive Falso Non hanno un'idea come difendere Falso Non hanno un'idea come scalare in avanti Falso Non hanno l'idea quando devono andare a pensare in 3-4 Falso In tante situazioni Vanno dove sta la 4-4 Alla Carlone Un coro a destra Una sinistra e non sanno cosa fa C'è grande confusione Falsissimo Ma la problematica più grande E non lo dico io Lo dicono proprio le partite Cioè I gol gas video Napoli Non sono state per queste motivazioni qua Grande 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 In queste partite qua Per quanto mi riguarda Sono due Uno è lo vodka Estragno a tutte le partite Che il Napoli ha fatto Poi Qualcuno Qualcuno incompetente Dice Ma ha toccato più palle Posso anche toccare 70 volte la palla Più dell'anno scorso Ma se io non ho alternativa Di dove dare la palla E devo giocare sempre indietro Oppure Ho il laterale E non ho idee di niente Lo vodka è il grande E voglio Allora il problema è di lo vodka Perché se ci arrivano Più palle Ma io sono in grado di giocare Il problema è di lo vodka Scusami Cioè Scusate se cerco Se cerco di rompere La sua credibilità Non che ci sia bisogno Che lo faccia io Ma allora È diversa la questione Perché fino a ora Avevamo detto Che proprio Toccava meno palloni Ma che gli hanno fatto capire Che non li toccava Di meno si è mandato un'altra cosa Cioè che in realtà Lo vodka è comunque sbaglio E ma allora Il problema di lo vodka Non è che non è al centro del gioco È comunque al centro del gioco Perché gli arrivano Lo stesso numero di palloni Il problema è che Lui non riesce più a giocare Come prima Il problema è di lo vodka individuale Caro Cassano È il problema Che anzi Che Garcia Ha fatto diventare il Napoli Con lo vodka il problema Perché lo vodka è stato L'anno scorso Il mediano metodista Più forte in Europa Che ha fatto giocare Il Napoli In una maniera pazzesca Sicuramente non ha fatto Il mediano metodista Non sta facendo rendere Lo vodka Lo sta facendo giocar male Non gli sta dando idee Due Abbiamo visto anche Perché lo vodka Aveva bisogno dell'allenatore Per avere le idee Ma ero che strunzato La reazione Kovara-Skelia 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 è un grande problema Perché è arrivato A un certo punto Lei ha visto la partita Genoa-Napoli I primi dieci minuti Del secondo tempo Sai dove giocava Kovara-Skelia? A destra Sì, sì, l'ho visto A destra Ha senso C'era Come era? L'anno scorso Che avevo perso Tutto quel tema Perché non è mai successo Con Spalletti Cioè Quello è nato Proprio con Spalletti Kovara Che Non dà punti di riferimento Tante Che in tante partite Ci ha fatto Ci ha fatto vincere la partita Sta Sta strategia Ma È diventata un'idea García Pure oltraggiosa Bellissima L'Asabella E poi la reazione Sì, l'ho visto Come se la vedessero loro L'hanno visto Tu quando Che è andato a destra Qualche volta L'avevamo visto Anche l'anno scorso Voi Forse partite A un certo punto Avete smesso di guardarlo Perché Non è solo il risultato Inizio a pensare questo Cioè che loro Che loro a un certo punto L'anno scorso Tante Visto che il Napoli Vince Tutte le partite In età Ben fanina Non me le guardo più Appunto Lele Se hai visto la partita Genoa-Napoli I primi dieci minuti Perché non ricordano Il calo Da marzo in poi Sì, sì, sì Sai dove giocava Cavarascheglia A destra Sì, sì L'ho visto A destra A sinistra C'era nessuno Andava dove gli pareva Esce Ha quella reazione Che un giocatore può fare Non è che io sono Il re Ognuno fa quello che gli pare Ma con Spalletti Non avrebbe mai fatto Nessuno avrebbe mai fatto niente Significa che iniziano A essere Anarchici Confusionari Vanno alla Carlona E ieri ho visto Ma veramente Spalletti Proprio notoriamente È quello che Ci si è appiccicato Con i suoi giocatori Forse nella storia Di tutti gli allenatori Di calcio Ma improvvisamente I giocatori Non l'avrebbero mai fatto Con Spalletti Poverino Ozyman Servito poco Ma molto male Come succedeva Anche l'anno scorso In alcune partite E chi dice il contrario Ripeto Non avete guardato Tutte le partite del Napoli Vi dispiace La palla di prima Dietro la difesa La palla sull'esterno Che la mette di prima Per dialogare Niente Poi hanno Fatto la partita Su due giocate Un gran gol Di Raspador Che ha a mezzo sbagliato Il portiere Sul primo palo E la gran giocatore Ma che cosa Ma come fa Il portiere Che cosa Ma rogazza Veramente Si cuffide Mette troppo stritte Secondo me Ma a mezzo sbagliato Il portiere Cosa C'è un siluro Sul primo palo Quasi nel sette No vabbè Come fa Non essere Malafede Questa Ma questo Non è Un parere Obiettivo Ma è palese Mette a bollo Politano Fa gol In Napoli Spiega it Ha fatto la partita Su due giocate Un gran gol Di Raspador Che ha a mezzo sbagliato Il portiere Sul primo palo E la gran giocatore Di Zielischi Che mette a bollo Politano Fa gol In Napoli La gran giocatore Di Zielischi È stata un'azione 6-7 passaggi Che c'era Cajuste C'era Di Lorenzo E hanno fatto Uno scambio Incredibile Triangolazione Solo la giocatore Di Zielischi Per Politano E il tiro Goll Vistis Va bene Ma poi ci sono tanti problemi Adesso vengono fuori anche Che se eventualmente Le prossime partite Fa mal Si rischia di saltare Non è che noi O io Abbiamo indovinato Oppure scoperto Ma loro che che l'ha detto Questa cosa Ma poi Hai indovinato Cosa Quattro giornate Sapevamo Che quando tu Vai ad avere Un genio Un tipo di calcio Un tipo di personalità Un tipo di persone Personaggio Come Spalletti E tu fai di tutto Per rovinare Spalletti E per rovinare Soprattutto Il giochino costruito Che causa Il proprio male Pianga se stesso Vai a prendere Garzia Che ripeto È una brava persona Però niente a che vedere Con quello che abbiamo avuto Che Anna ha avuto Perché abbiamo Perché noi ci sentiamo Nostro anche Il bel calcio Non che siamo napoletani Il bel calcio Il divertimento Anche amico nostro Però Perché lui Oltre ad essere amico nostro È guadagnato Il nostro rispetto Calcistico Farà grande fatica Con Garzia A meno che A meno che Ma sappiamo anche il tuo Giochino Che se casomai Dovesse riprendere A vincere Ogni parte del Napoli Dirai È perché poi Garzia è ritornato Sui suoi passi E ha modificato È tornato A come giocava Spalletti Ma io già lo so Perfettamente Ragazzi Ricordatevi Queste parole Che saranno Esattamente Quelle che dirà Cassano Tra qualche partita Se dovesse saltare E arriva Conte Io il Napoli Lo rimetto Nel minestrone Ma sì Perché notoriamente Conte E Spalletti Giacano Nello stesso Identico modo Perché Conte In poco Ti fa andare a Mila Allora Si fa quello Che lui dice I giocatori Sono forti E tutto ad un tratto Ti può far cambiare La squadra Perché lui Ma come sono forti I giocatori Io le rimasti Che le spalletti Che gli faceva Diventare Dei campioni Lui te l'ha detto Andranno forte Grazie a Conte Con García Secondo me Farà una fatica Imane Perché ripeto Confusione Senza idea Ognuno Anche a chissà Perdevano 2 a 0 Per uscire Ci hanno messo Un quarto d'ora Scazzate Sono atteggiamenti L'ha detto il mister Di fare questa cosa Sì sì Ha detto A chissà Quando esci Prenditi proprio Il pene in mano E cammina Verso L'uscita del campo La squadra Che ha giocato male Che puoi giocare male L'atteggiamento Dei giocatori in campo Non mi lascia Presagire Niente 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 Di buono Mi dispiace Per i miei amici napoletani E per il Napoli Che abbiamo giocato per loro Però questo è quello Che sto vedendo io Le prime giornate Camel No ma Antonio È stato chiaro Dopo la prima giornata Ha detto Che non ero In Champions Noi Non eravamo d'accordo Su quel fatto lì Di non Eravare in Champions Però eravamo Tutti d'accordo Che sarebbe Cambiato il Napoli Perché quando Mande via Un allenatore Che ha fatto Questo calcio qua Che non si era mai visto È andato via Spalletti Ripetiamo Tutti quando insieme È andato via Come non si era mai visto Questo calcio Come non si era mai visto No no Ha fatto il calcio Ha fatto il calcio Migliore di sempre Stavrà vinto il campionato Giocando un calcio Fenomenale Che l'hanno visto Tutto il mondo Ma l'abbiamo già detto Che Spalletti Era da dirgli Finisci quella carriera Dove vuoi andare Cioè Ma si sa L'abbiamo detto Quante volte L'abbiamo detto Ci siamo stupiti No Non ci siamo stupiti Perché già Quando tu due settimane fa Intervisti un giocatore Ti dice Quest'anno Quest'anno Andiamo direttamente su Vuol dire che Il gioco dell'anno scorso È finito Ma non vuol dire Che il allenatore è scarso García Ogni allenatore Ha il suo modo Di vedere il calcio Quindi García Evidentemente Si sapeva Che non è il modo Suo di giocare Lui vuole Che da dietro Tu vai prima In avanti No ma ci sta Con la palla lunga Ma sa vuole García No ma io veramente Io vi voglio vedere Mi dovete trovare Quest'intervista Ecco Ho conferenza stampa Dove García ha detto Queste esatte parole Che ha detto Bobo In questa ospezione Di video Bobo Si è ripartito Bobo Si è ripartito Ma ti rendi conto Come stanno Modificando la realtà Cioè García Ha detto Testuali parole Io non voglio giocare Palla lunga E la butto in avanti Non voglio palleggiare Cioè García Si è assettato In conferenza stampa Ha detto Questa frase Mamma Mi fanno Vomitare Vuoi andare subito In attacco Ma ci sta Non c'è niente di male Però per come Era costruito Come Spalletti Ha costruito La squadra Come ha giocato La squadra Se tu mandi via O comunque Non ti trovi D'accordo Amici È incredibile È incredibile Ma poi ha detto Non se ne è voluto andare Stava bene Aveva un ottimo progetto La Stein Premier Ma perché ha Downing a Napoli De Serbia Potenzialmente A bruciarsi Poi parlano Il servilismo Cioè ci rendiamo conto Il silamento Nel servilismo E poi parlano bene Solo dei loro amici Cioè è incredibile Di giocare a calcio Secondo il mio parere Ma non c'è niente Anche secondo il mio Non c'è niente Garci 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 è una persona fenomenale Ha il suo modo Di giocare a calcio Ma se tu non ti trovi D'accordo con Spalletti C'è solo uno Da prendere In tutta Europa Solo uno Il calcio Ha iniziato Con Spalletti E finirà con De Zerbia Arrivederci Amici La gente si stupisce Noi abbiamo detto La prima domenica Lui l'ha detto Che addirittura Non andava in Champions Ma allora Ma questo ti rendi conto Mi sembra un discorso Che si dovrebbe fare A fine campionato Stiamo parlando In questi termini Alla quarta giornata Alla quarta giornata La gente si stupisce Di cosa Che non è successo Ancora niente Cioè Stiamo parlando Del nulla Del nulla Non è successo Ancora niente Alla quarta giornata La gente si stupisce Cosa Parlano come se Il campo Gli avesse dato Ha ragione Di cosa Quattro giornate Sono passate Cioè magari Avete vincito Due battaglie Ma la guerra Oh è lunga E quindi ragazzi Ma meno male Hanno fatto il 2 a 2 Eh si Se no perdono Un'altra partita Dopo di defila E con Come avete detto voi Problemi di Karola Scala Problemi di tutti Quindi Purtroppo Si sapeva che dopo Dopo La partenza di Spalletti Chi sarebbe andato A Napoli Avrebbe avuto Una palla di fuoco Perché comunque Da giocare Il calcio Che giocava Ora gioca in maniera diversa Quindi Lo vodka Che l'anno scorso Era il cervello Della squadra Quest'anno fa Fa più fatica Non è nel gioco Come prima Quindi tutto Osimena Tocca poche palle Guarda Scala Non gli arriva più Cioè Giustamente Se tu Non ti arriva più cosa Cioè Si stanno mandando Si stanno mandando Proprio Con la Scala Non gli arrivano più cosa Che stai dicendo Cosa dici Cambia un po' il gioco E ci sta che trovi Dei problemi E in Napoli Ha iniziato Non bene No Possiamo dire questo Dobbiamo dirlo Prima Anto dicevi In Genova Perché Scusatemi Ma facciamo un ragionamento Il troppo semplice Un allenatore arriva Su una nuova panchina Di una squadra Che ha vinto Che è giovane E quindi a maggior ragione È una sfida Anche per te È una sfida per i giocatori Tu arrivi Nelle prime due Vinci Tutte e due le partite Le vinci anche bene La successiva È in uno scontro diretto Al Maradona In casa tua La perdi Però di misura Non è che hai fatto Una figura di merda Poi pareggi a Genova E può mai essere Ha iniziato male Magari non ha iniziato In grande spolvero Ma che hai iniziato male Manco avesse perso Le prime quattro partite Ma scusatemi Infatti Se il Napoli ha iniziato male Roma e Lazio Che hanno fatto Ma È la Fiorentina Che tanto per Cassano Doveva arrivare Tra le prime quattro Il Napoli di Spalletti Non ti permetteva Molte volte Di fare delle grandi partite Perché c'aveva sempre La soluzione giusta E soprattutto C'aveva sempre la palla Nick C'aveva sempre la palla Quindi con questo sistema Perché Del Genoa Chi ha avuto la palla 66% palla Chi se l'ha fatta O in un altro campo Hanno fatto 66% Per lo stesso palla Per cercare subito Sì man Cioè capisci Quello che Io sto vedendo Che loro parlano Di qualcosa Come se fosse Qualcosa di astratto Perché la realtà È stata un'altra E lo dicono i dati I dati reali Non i dati Astratti Come fanno loro Perché loro parlano Di qualcosa di astratto Ho visto con i loro occhi Seguendo le loro impressioni Momentanee Della partita Perché poi Figuratevi Se sono guardate Più di una volta La partita del Napoli Col Genoa Quindi se la saranno guardate Quella volta Magari Manca tutta quando Perché Magari si sono alzati Dal divano Sono andati a vedere altro Magari si è venuto Con il telefonino Ma Quindi figuratevi Se si sono riguardati La partita Cioè io devo sentirmi dire E prendere Come veritiero Qualcosa di astratto Presente nei loro ricordi E poi i dati Dico il contrario Che abbiamo avuto Il 66% Di lo stesso palio Devo sentire Prima Tenevano di più la palla Ma che state dicendo Cosa state dicendo E quindi scavalcare Il centrocampo Ritorno a delle cose Che aveva detto Lele Cioè no Il Napoli Ha fatto delle cose Straordinarie L'anno scorso E Spalletti È stato l'artefice Perché Lobotka Comunque aveva 28 anni 27 anni Cioè Anche sa Se ha 25 anni Adesso ne ha 27 Gioca nel Fulham E arriva il Napoli Un motivo ci sarà Quindi comunque Sono dei giocatori Ottimi giocatori No Buoni giocatori Che l'allenatore Li ha fatti diventare Mediocri giocatori Io non sono molto bassi Tuttosferici in un sistema In un sistema di gioco Con tutti i giocatori Che riuscivano a fare Quello che chiedeva L'allenatore Se tu metti dei giocatori Che comunque Anche se li abbiamo visti Agli occhi abbiamo Il Lobotka dell'anno scorso L'Anghissa dell'anno scorso Con un sistema diverso Fai fatica Quindi perdi subito Palla che ti possono ripartire Se Osimè non lo lanci bene Diventi una squadra Normale Perché Ripeto I giocatori Sono degli ottimi giocatori Che ha fatto diventare Spalletti Però possono andare In difficoltà Poi quando non ti arrivano I risultati Mentalmente Puoi avere dei problemi Cominci Cominciano i malumori Quindi La vedo La vedo Un po' bruttina La situazione Già che De Laurentiis Comincia a far capire Che l'allenatore Può essere sostituito Quindi comunque Ma non è successa questa cosa Cassini Extra gioco E non la vedo Benissimo Proprio questa situazione Che stai già con l'acqua La gola Se perdi le partite Eppure Garzia Mi sa Che aveva fatto Delle dichiarazioni Rachmani Perché non gioca Perché devo pensare Alla Champions League Anche l'allenatore Ma si era fatto male A dire Di partita in partita E non fare Dei giochini Per Per pensare Alla prossima Può essere Che ho letto Ditemi voi Che Garzia Ha detto Basta fare un gol Più degli altri Può essere Questo Non ce l'ho impresso Non sono sicuro Allora Non dico Ma poi Ricordate che la it Tanta Vi dite Se 30 Ha stronzato Faci 31 Cioè Che fa Che poi Ritornando agli scorsi Spalletti Che fa diventare I giocatori Dei fenomeni Ma vi ricordate Che Spalletti Rimassi due anni A Napoli O prima Non mi sembra Proprio Che Quelli che c'erano Avevano raggiunto Il livello Dello scudetto Che abbiamo vinto L'anno scorso Quindi Non ci capite Tanto Se è Spalletti La chiave Dove avevamo vincere Lo scudetto Pure l'anno prima Invece l'abbiamo vinto L'anno dopo Quando poi è arrivato Quara È arrivato Kim E sono arrivati Tutti gli altri giocatori Non mi ricordo Comunque Non immaginavo Antonio Quello che dicevi Tu Ti dicevo All'inizio Del campionato Voglio stare a guardare Però non pensavo Un Dieci passi indietro Pensavo Due o tre Che magari Comunque la squadra Andava un po' Con Con quello Che c'aveva L'anno scorso Di Spalletti Siccome noi siamo Degli intenditori Non fa rire Ragazzano È troppo forte Però Nick Siccome noi siamo Degli intenditori E vediamo Tante partite Mamma Mi sono partita Da Bobo Tutte le squadre Di Garzia Hanno giocato Sempre in un modo Tutti dietro E palla Direttamente Ma stai scherzando Marona Digno della situazione A Lille Oppure a Roma Sempre su Gervinio Ma ti niente conto Quanto si sono fissati Su sta cosa Della lancia lungo Cioè ma ti niente conto Quanto si sono fissati Su sta cosa Della lancia lungo Ma scusa Basta chiedere Ad un tifoso Della Roma Di dieci anni fa 2013 Andato alla Roma Io mi ricordo Perfettamente Che addirittura Sulle pagine Dei quotidiani Dicevano Lo scienziato Del calcio Francese Laureato In scienze motorie Sportive Dicevano Ah Perché quella era L'epoca Perché mo E' facile Ma quella era L'epoca In cui Se tu dicevi Che ti piaceva Il tiki taga E' uno frate Lo cazzo Ricordiamolo Ricordiamo Quella era l'epoca In cui dicevano Ah Questo è arrivato In serie A un altro scienziato Dieci anni dopo Rudy Garcia Uno che gioca Tutto dietro Ma come cambia La realtà Nel giro Di dieci anni Una costruzione Di gioco Poi Tra virgolette Come diceva Bobo L'altra volta Lui gli ultimi Due anni Allenati in Arabia Saudita Sarà bello Non bello Il palletti In due anni Si è fatta la campagna Competitivo Competitivo Si è andato A prendere Un allenatore Veramente a scatola chiusa Perché le ultime due E' stato esonerato All'Al Nasr Ed è stato esonerato In Francia Non lo so E' andato Non lo so A scatola chiusa A prendere Un allenatore Che non so Se si ha Si si addice Esattamente All'idea Di questa squadra Ripeto Può darsi Vai al break E lui ti dice No De Zerbi Vai a prendere Un tipo di Tra virgolette Vai a prendere Italiano Tenta con italiano Almeno un tipo di gioco Perché? Perché piace a te Con Spalletti Per un faccio 4-3-3 Dove tu giochi Nella metà campo Di là Fai un tipo di gioco Infatti ha preso Artur quest'anno Che vuole Il play basso Ma li hai di conto Che sputano in faccia Alla realtà Cioè il Napoli Non ha giocato Nella metà campo In tutte e quattro Le partite Siamo sempre stati Nella metà campo Avversaria Ma mi vogliono Far credere Che il Napoli Non ha giocato Nella metà campo Avversaria Non abbiamo fatto Più possesso Dell'avversario Non abbiamo cercato Di creare azioni Con 3000 passaggi Per entrare Fino nell'area Dell'avversario Ma che cazzo Stanno dicendo Ma cosa state dicendo Mamma mia Incredibile Lobotka lo tieni Sempre in gioco E vai a prendere Un giocatore simile Adesso Te lo dico adesso Quale sarà La prossima idea Fuori Lobotka Dentro Cajuste Con Nanghisa O Zielinski 4-2-3-1 Con dietro La prima punta Raspadori Perché già L'ha fatto capire L'altro giorno Lasciando perdere Il fatto che Non ha strunzato Ma perché Cosa ci sarebbe Di male Perché Lei sa maestra Che non gioca Lobotka Io non ho capito Cioè si può vincere Solo con la botta Nella testa di Lui gioca benissimo Dietro Ozyman E vedrai Farà giocare 4-2-3-1 Io non dico Che sia giusto Tenere tutto Quella Della gestione Precedente Se tu non ci credi Ma Non puoi Operare Pensando Che la gestione Precedente Che è stata Così clamorosamente Unica Non abbia Tante cose Che funzionano Perché La gestione Precedente Era perfetta Cioè tu Non devi cercare Di non smontare La perfezione Puoi inserirti Nella perfezione Ma non smontarla E invece La verità È una Allora Ci sono secondo me Due aspetti La prima Il Napoli È tornato normale Può vincere il campionato Sì No Secondo Terzo Napoli Dimentichiamocelo Sembrano Sono passati dal 2 giugno Cioè quando La natura del Napoli Di prima È venuto a trovarci a teatro A Napoli Era il 2 giugno Sono passati tre mesi e mezzo Sembra che sia passati tre anni e mezzo Mai Non mi ha fatto mai Ti ricordo stava cascando È vero che a me Se mi guardo indietro Dico tre mesi e mezzo Sembra ieri In realtà Eravamo giocatori ancora Sembra Questa è la verità Non c'è più niente Di quella gestione Normale Anormale Eccessivo Ma questo è bene dirlo Noi già avevamo Preparato Nelle Nelle valutazioni La differenza La diversità Però La differenza Non deve per forza Portare Un'involuzione Per me Il Napoli è involuto E vado nello specifico Vi ricordate Scusami Prima che ricominci Con un nuovo punto Ci tengo a dire Ragazzi La cosa che dobbiamo tenere a mente È che se anche Garzia Avesse voluto fare questa cosa Io non lo so Se la vuole fare Magari si vuole davvero Bruciare i punti Col passato E vuole fare Tutta una nuova gestione tecnica Ma se anche Avesse voluto O se anche volesse È impossibile Farcela in un mese Di ritiro Dove peraltro Hai avuto solo I primavera Poi all'improvviso Sei arrivato in campionato Non ti sei mai allenato Questi giocatori Ma tu come facevi Questo dispetto al passato Perché non lo sai Gli allenatori C'hanno il joystick In mano E giocano loro E non i giocatori È palizzo Tu cambia l'allenatore Magicamente La squadra Modifica In tutto Totalmente In modo di ragionare in campo Pare che la pensi così Dobbiamo fare il paragone Perché rende più l'idea Proprio a Genova Amarassi Noi Non eravamo ancora qui Eravamo ognuna a casa nostra Andiamo a valutare Un primo tempo Di un calciatore Centro avanti Della Juve Vlaovic Che contro la Sampdoria Ha toccato 5 palloni E vi ho fatto vedere i puntini Osimè Sempre Ha toccato 8 Quindi Se noi Facciamo vedere come negativa La prestazione di Vlaovic Perché è poco fornito Poco accompagnato Poco coinvolto Mi sembra giusto Evidenziare La prestazione Negativa Di Osimè Perché Poco servito Poco accompagnato Poco coinvolto Anche Di 3 giorni fa 2 giorni fa Ora La differenza Perché è più rimarcata Camel Perché il Napoli Se tu ti ricordi La più brutta partita Del Napoli E io non me la ricordo Però Supponiamo La più brutta partita Del Napoli Tirato 20 volte in porta È sbagliata Ma cosa Cioè È troppo riconosco Una partita Orribile Guardate come Mi sono convinto 20 volte in porta La più brutta Partita del Napoli 20 volte in porta Va bene Mi ricordo In una partita Per il Verona 80% Di possesso Palla A girare attorno A Verona Un tiro in porta Con spalletti Andate a rivedere Ragazzi Non credete Voi avete il computer Potete cercare Andatevi a vedere Tutte le partite Del Napoli Spalletti E vedete Se è vera o falsa Sta strunzata Che ha appena detto Lele Adani Che lui la dice Perché lo sa Che poi voi Non andate a controllare Quindi lui la dice E pendete dalle sue labbra Però Ve lo dico È una strunzata Ah ma poi Peraltro Ancora una volta Non guardano le partite Del Napoli Perché L'anno scorso Era sistematico Che Osimen Tocasse pochissimi palloni Ma sì Mi ricordo La partita con la Roma Che di fatto Tocco solo il pallone Del gol Cioè Ma come è normale Che sia Perché giustamente I difensori Non gli danno aria A Osimen Lo marcano a strettissimo Ma ci sta È normale Che sia così Ma ti rendi conto Stanno evidenziando Difetti Del Napoli Attuale Che c'erano anche Nello scorso anno Solo che Nello scorso anno Non li evidenziavano E li evidenziavano Solo quest'anno Perché Devono mettere Più carne a cuocere Possibile Altrimenti Non possono far fuori Garzia Il Napoli Non tira più in porta Con quella consistenza Con quell'entusiasmo Con quelle Con quelle varianti Cioè 20 volte in porta Ma da marzo Dell'anno scorso È così Da marzo Quando era positiva Tirava 45 volte in porta Quindi Ma dove hai visto Si è partito Fra Ma nemmeno Ma qual è Nemmeno il Manchester City Ha fatto 45 Tiri in porta E nemmeno Di media Di media Ma ero Cazzo Ma noi Mi sono visti Un film A parte La variabile Era Vince Facendo due gol Facendone quattro Perché O l'avversario Fa due gol Oppure Gli tiene testa Ora Se andiamo Nello specifico La normalizzazione Del Napoli La trovi in più Punti I giocatori Sono più propensi Ad alzare le braccia E dire Dammela prima Dammela meglio Osimè ne è sempre dietro Sbracciare Se l'altro L'altro anno Capitava Volete dire Che non l'ha sempre fatto Non è famoso Victor Bufassofat Al prima volta Che sbracciava Innanzitutto L'allenatore gli dice Di tenere giù le braccia In più Aveva la squadra Che ne aveva Otto Ai limiti dell'area A pressare Quindi La risposta Tecnica E motivazionale Era diversa Perché a me Non interessa Far passare Per negative Le scelte di Garcia A priori Ma io devo vedere Quello che accade in campo Garcia dice Non mi interessa Che si dipenda Da un solo giocatore Ma Lobotka Non è un solo giocatore Lobotka È il volante Della squadra Perché poi Lobotka Ha bisogno degli altri Ma gli altri Hanno bisogno di Lobotka Quindi non è solo Un giocatore È il fulcro del gioco Non è un calciatore È il fulcro del gioco Tu me lo puoi dire Tra Mario Rui E Olivera Perché anche Spalletti Li cambiava Ma non puoi tu Togliere i gradi Allo Lobotka Perché non puoi giocare meglio Ora Sullo 0-2 Lo togli Entra Cajuste Ma supponiamo anche Che Cajuste Sia Raikard Quando giocava Sia forte Come quando giocava Frankie Raikard Ma Lobotka Ti ha fatto girare Quella squadra Quella squadra Si riconosce In quel modo Di fare calcio Tu vuoi calciare in porta Dimostramelo Concedi meno Calcio in porta di più Allora io dico Si può vincere Senza Lobotka Ma se tu Ma ti vieni Quanto il discorso Non ha senso Quello che sta facendo Cioè Il Napoli Ha concesso pochissimo Cioè Infatti Due tiri in porta Due gol dell'avversario Ha concesso pochissimo Metti mano Togli il fungo Ripeto Lì sa maestà Letteralmente Lì sa maestà A togliere Lobotka A due minuti Dalla fine Ozyman Calcia meno in porta Ora io vi dico Ho fatto tre nomi Lobotka Faraskela E Ozyman Se tu Vai lì Io dico Che ci metti Anche un po' Del tuo A togliere A fare A smontare il giochino E secondo me Questo è peccato Perché tu Se il giochino Lo vari Ma da chi parti Dai tuoi punti cardini No Ora Adesso dico una cosa Che Qualche d'uno Può anche telefonarmi Però a me non interessa Perché Io non ce l'ho Con la proprietà del Napoli Ti spiego Il perché Perché la proprietà del Napoli So valutare Quello che ha fatto Però Questo giochino Anche dei soldi Dei rinnovi tardivi Porta malumori Perché oltre al collettivo Che non va Poi ci sono Le cose Singole Perché Ozyman Ha quest'anno E poi c'è un altro Anno di contratto Cioè Ozyman Che è stato Uno dei tre centravanti Ed è uno dei centravanti Più forti al mondo Ti gioca motivato Ti ha dimostrato il ragazzo Il ragazzo Quando scatta Si butta contro il portiere Ogni volta rischia le gambe Rischia che gli si spacchi la testa Cioè non è che si tiri indietro Se le cose van bene o male Però Ozyman Se viene L'Arabia Saudita E tu dici Ozyman vale 200 E l'Arabia Saudita arriva con 200 Poi tu dici Ozyman vale 500 E tu fai questo giochino qua Il procuratore di Ozyman Che ha diritto anche lui Tutterrà gli suoi interessi E quelli del suo assistito Ti dice Ferma un attimo Se tu mi chiedi 500 Non mi dai via 200 Mi devi dare 20 all'anno Ma lui fa passare i mesi E glielo dà fra 2, 3, 4 mesi Poi arriva a un certo punto Esatto Perché va in scadenza Tra un anno Aspetta due mesi Se le va a portare a cazzo a zero Perché ne fa tempo Sai cosa succede Ma che c'è a zecco col campo Tutto ciò Cioè cosa c'entra Noi si muovono Trasci pure economicamente Vogliono gestire pure la società Questo percorso Di quei 2, 3, 4 mesi Che dici te Si intossicano i rapporti Se non viene fuori il risultato Cosa accade Altra cosa Farah Skylar È nei 30 del pallone d'or Farah Skylar Non ha un contratto adeguato Non gli è stato ancora adeguato Un milione e due Mamma mia Allora Queste cose qua Noi Se non le diciamo giusto No è la sua risposta Sai cosa è stata Io se Rosyman Ok Lui ha detto 200 Sì Gli hanno preso 200 Io facevo Bye bye See you L'intervento Incredibile di Bobo Che è stato di tutta la conversazione Bobo la cosa più scandalosa Vabbè Osyman Prende 5 Ci sta Farah Skylar La sua risposta Non sai qual è stato Mi avete rotto le scatole Dite solo cazzate Ha 4 anni ancora di contratto Che cosa dobbiamo parlare Di aumento Ti rendi conto? Però quando ti hai fatto vincere lo scudetto Ti andava bene Non è che ti intossichi Perché lui è un bravo ragazzo Io non è che mi intossichi Sì come Io ci hai fatto La scommessa Coppa a quara Io l'hai fatto In Europa Non ci capite Che poi C'è stato fatto Che poi questo comunque È tutto un altro discorso Sì Ma è anche un discorso Che io posso condividere Cioè se loro mi dicessero Ragazzi secondo me Il problema Del Napoli È che forse I giocatori Ci hanno un po' la testa Da un'altra parte Anche per i problemi Che possono avere Con la società Alcuni giocatori Io potrei pure dire Ma Forse no Però potresti avere ragione Ma chissà È tutto un altro discorso Su quello che tu hai sparate Di merda Che stanno facendo Su Garzia Cioè questa non c'entra niente Con la roba tattica Capite Rivolto lo spogliatoio Butto Butto vicino A Alle vetrate Le sedie Come ho fatto a Madrid Spacco tutto E invece il ragazzo No Cosa fa Ha ronto la fine Hai ragione Il ragazzo no Ma il ragazzo ha fatto però così Esatto Non l'ha mai fatto con Spalletti Allora All'inizio dell'anno scorso In Tossa Ma che non l'ha mai fatto con Spalletti È stato un anno Spalletti con Quara Non la sai tutta la carriera di Quara Se mo Quara ogni sua stagione Fa così Che non sai tu Cioè Non lo so Ma che morisce Non sta strunzando Non l'ha mai fatto con Spalletti Che rapporto hai detto meglio Succede così Anto Perché io mi ricordo In ritiro dell'anno scorso Proprio prima che iniziasse il campionato Voi vi ricordate quando Osimè l'ha mandato allo spogliatoio Perfetto Ma Osimè non mi sembra che sia Tornato demotivato Vedi un po' l'anno che ha fatto Ma Scusami Si creano delle situazioni Che se non le sai gestire Poi Io Non sono quello che ha scelto Garzia Non so se è stato la prima La seconda La sesta scelta Come dicono Non metto in discussione La professionalità Secondo me va aspettato Penso che siamo d'accordo Cioè Di dare Deve avere il suo tempo per lavorare Ma Saremo bugiardi Se diciamo che a Napoli Le cose van bene Cioè Le cose che non vanno così bene Le vedono tutti Perché sono tante pure È cambiato Cioè Il Napoli è diventato normale E il cambiamento Ha portato un'involuzione Questo oggi Questo è quello che accade oggi Non so come la risolvono Ma infatti Cioè Il ragionamento è fatto adesso Non fa una piega Cioè per me Sarebbe ingiusto dire Che al Napoli Sta andando tutto bene Ma è anche ingiusto dire Che al Napoli Sta andando tutto male Dovreste essere equilibrati Invece Non vedo nessun tipo di equilibrio Capisci Cioè Non c'è stato Proprio L'equilibrio È già deciso Che dopo quattro giornate Sta andando tutto male Quando non è così Quando non è assolutamente così Non è assolutamente così Sta andando in un modo Normale Per il momento Hanno già deciso Che Garziano Non è adatto Per il lavoro Quindi Si vanno a contraddire da soli È troppo diversa dal passato Che ripeto Il passato Troppo diversa Sembra di sei anni fa E invece era Novanta giorni fa Io voglio capire No ma io voglio capire Perché è troppo diversa E l'unica cosa che hanno notato Sono la botca E i lanci lunghi A Rossa Sta troppa differenza Voglio capire Cioè Hanno fatto un discorso Di mezz'ora Che si può riassumere In la botca E i lanci lunghi Che vuole fare Garzia Basta Che ci manca? Ci manca la Juve Perfetto Mamma mia Chi schifo Manca la Juve Si soffia di ricero Sulla magnifica Juve C'è sta Che ha fatto mezz'ora E' buona E magari si mettono pure a dire Che ha dominato il campo Io sa Vabbè ci hanno vinto Eh sì Quello è tutto legato A un solo discorso Il risultato E a quanto è stato simpatico La squadra Mamma mia ragazzi L'unica cosa Secondo me Dobbiamo cercare Soprattutto noi tifosi del Napoli Non farci Trascinare In questo mare di merda Perché questo è soltanto Mare di merda Che Non ha Veramente né capo né coda Come volevo dire C'è C'è 3.000 differenze Alla fine L'unica che hanno detto Sono La botca E i lanci lunghi Basta 4 partite Sono passate E Sembra che Veramente Stiamo per andare in serie B Cioè Già siamo arrivati Alle sentenze Cioè Già siamo Arrivati Alle sentenze finali Ma Va bene Ragazzi Questo video finisce qui Fateci sapere cosa ne pensate voi Con un commento Lasciate un like se il video è piaciuto Iscrivetevi E ci vediamo in un prossimo video Forza Napoli sempre 2 3 3 2 4 7 8 9 9